Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Siamo arrivati a 40.000 iscritti! L'ultimo che indovinerà la mia data di nascita riceverà un simpatico omaggio. Dai, provaci! Su trovavolantini.it le offerte della tua città a portata di un click. Che ne pensi di queste offerte? Scrivimi commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu, in quale negozio vai? Scrivilo nei commenti! Scriviti al nostro canale! Questo è il nostro canale! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.